Musica Un nuovo appuntamento con cronache e commenti, il rotocalco che Teletruria dedica all'attività del Consiglio regionale e come facciamo di consueto in apertura i titoli degli argomenti che andremo a trattare. Via libera dal Consiglio regionale al rendiconto per il 2022. Qualità dell'aria, l'assessore Monni illustra il piano. Semaforo verde da parte dell'Aula di Palazzo del Pegaso che ha approvato il rendiconto del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2022. A favore della proposta di delibera ha votato la maggioranza, contrario il gruppo della Lega, astenuti Fratelli d'Italia e Movimento 5 Stelle. Venendo ai dati principali del rendiconto, le previsioni iniziali delle entrate e delle uscite ammontavano ad oltre 29 milioni di euro. Per effetto delle variazioni intervenute nel corso dell'anno, le previsioni definitive effettive di entrata e di uscita sono pari a 38 milioni e 453 mila euro. Il gruppo del PD ha votato in maniera favorevole al consuntivo del Consiglio regionale per l'anno 2022 perché è un consuntivo che ci parla di una gestione attenta, oculata e che guarda anche al futuro. Le risorse che vengono assegnate al Consiglio regionale dalla Giunta che ammontano al 98% del bilancio del Consiglio sono risorse che sono costanti negli anni, quindi questo significa anche una capacità di tenere sotto controllo la spesa, non c'è aumento di costi, non c'è aumento del costo della politica, anche dal punto di vista del consuntivo possiamo segnalare delle capacità di risparmio sulla spesa di gestione, ad esempio una per tutte cito il risparmio di 300 mila euro sulle utenze, in tempi in cui il costo delle utenze è esploso, aver risparmiato 300 mila euro è sicuramente un segno di attenzione particolare. C'è un avanzo di amministrazione di 1 milione e 700 mila euro che potrà essere nuovamente utilizzato dal Consiglio a breve in quanto le risorse potranno essere riutilizzate in questo esercizio finanziato. Il Consiglio regionale approva il proprio rendiconto, un atto importante che ne determina, da una parte un avanzo di amministrazione importante per consentire di continuare a finanziare iniziative legislative come uffici di presidenza, se penso alle iniziative rivolte ai giovani, penso alle associazioni, penso al mondo della cultura, dello sport, quest'anno ci finanzieremo un progetto sull'identità culturale dei giovani toscani e il prossimo anno potremo avere altre risorse da destinare rispetto a queste iniziative sull'identità toscana. Nel contempo, grazie all'atto approvato dal Consiglio regionale, vengono messe da parte delle risorse per sostenere e aiutare le popolazioni del Mugello che sono state colpite dalla forte alluvione che ha coinvolto ovviamente la Romagna ma anche un pezzo importante della Toscana. Approvato all'unanimità un ordine del giorno collegato all'atto presentato dalla consigliera Elisa Tozzi del gruppo misto Toscana Domani. L'ordine del giorno è relativo alla destinazione dell'avanzo libero di amministrazione in favore dei comuni dell'Alto Mugello colpiti dagli eventi meteorologici dello scorso 17 maggio. Sono direi soddisfatta perché oggi è stato dato un segnale importante da parte dell'Aula proprio in serie di approvazione del rendiconto del Consiglio. Noi avevamo un avanzo importante, cioè cosa significa? Avevamo delle risorse libere che non erano state impiegate e che possono essere impiegate a discrezione dell'organo consigliare. Ecco oggi l'Aula in modo direi unanime, questo mi dà particolare soddisfazione, ha votato un ordine del giorno con il quale si impegna comunque una parte di quelle risorse a destinarle diciamo verso quelle zone che hanno subito danni in gente, situazioni di grave difficoltà che sono i comuni appunto colpiti dall'alluvione in Alto Mugello. Sono zone che naturalmente soffrono di situazioni critiche già da un punto di vista ambientale, lo sappiamo bene, sono comuni che hanno anche una difficoltà ad essere raggiunti molto spesso, la percorribilità della loro viabilità, il collegamento per le attività economiche e per i cittadini è importante. Riuscire a dare un segnale di attenzione a quei territori oggi io credo sia stata la dimostrazione che quando la politica diciamo si trova sui temi, sulle necessità e sulla concretezza possiamo fare anche dei piccoli capolavori perché dimostriamo davvero di essere attenti alle esigenze dei cittadini. Quando questo accade e lo si fa in modo unanime io credo che dobbiamo essere soddisfatti tutti quanti. A noi intanto è parso importante quello che è emerso dalle audizioni dei dirigenti. Sono stati sentiti il segretario generale, è stato sentito il dottor Mascagni. In particolar modo il dottor Mascagni ha messo in evidenza considerazioni che anche noi condividiamo. E cioè che gli avanzi di bilancio, questi avanzi importanti di bilancio in realtà non sono avanzi dovuti a situazioni eccezionali come per esempio ormai va di moda al Covid. Sono avanzi strutturali che si ripetono dal 2014 in avanti e che anche se sono diminuiti continuano ad essere avanzi importanti che testimoniano una cattiva programmazione. Quindi noi abbiamo sollecitato questo elemento per far sì che in realtà le risorse siano ben individuate per quelle che sono le esigenze del Consiglio regionale, ben individuate dai dirigenti e dagli uffici dei settori differenti per far sì che siano spese nel almeno 95% di quella che è la loro portata perché questo continuo ricorso alle variazioni di bilancio non è a nostro avviso comprensibile, è bene che le risorse siano spese e che non ci siano situazioni di avanzo che poi portano a decisioni ulteriori che non sempre condividiamo. Il rendiconto del Consiglio regionale noi ci siamo astenuti, ho sollevato personalmente come Presidente un doppio problema. Da una parte avanza 1.700.000 euro ma diminuisce quanto abbiamo in cassa per quanto riguarda il funzionamento del Consiglio che risente ancora di un ritardo negli investimenti soprattutto per le infrastrutture tecnologiche e telematiche a supporto del lavoro dei consiglieri. Ma soprattutto ancora una volta la Giunta ha approvato il rendiconto generale della Regione che comprende anche il rendiconto del Consiglio regionale che stamattina dovevamo votare prima del voto di stamani. Come al solito quindi il Consiglio non può entrare nel merito ma viene di fatto relegato a un ruolo di subordine e di ratifica di scelte fatte da altri. È un percorso che non ci piace e l'abbiamo fatto presente al Presidente Gianni e al Presidente Mazzeo. Il rendiconto ha sempre una grave lacuna, quello di mancare di dare risorse ai partiti dell'opposizione perché possano finanziare delle loro proposte di legge. In questa Regione le proposte di legge passano o se sono gradite alla maggioranza o se le presenta la maggioranza stessa. E questo è un modo per tarpare le ali non soltanto all'opposizione ma alla democrazia perché anche gli eletti della minoranza, dell'opposizione hanno una loro rappresentanza e hanno un loro diritto a non vedere le loro leggi, carta a straccia oppure a non essere nemmeno presentate. Questo è quello che continuiamo a chiedere con forza da anni perché è un modo per silenziare quella che è la nostra attività e soprattutto per azzerare le nostre pregative e su questo noi continueremo a dare battaglia fino all'ultimo. È stato l'assessore regionale all'ambiente Monia Monia ad illustrare nell'informativa al Consiglio regionale gli obiettivi generali che dovrà contenere il piano regionale per la qualità dell'aria. Tra questi portare a zero la percentuale di popolazione esposta a superamenti del valore limite di biossido di azoto e PM10, ridurre la percentuale della popolazione esposta ai livelli di ozono superiori al valore obiettivo, mantenere una buona qualità dell'aria nelle zone negli agglomerati in cui i livelli degli inquinanti sono stabilmente al di sotto del valore limite. Per Alessandro Capecchi di Fratelli d'Italia il quadro illustrato è parziale. È avviato in Consiglio regionale con l'informativa il processo per portare al nuovo piano della qualità dell'aria che essendo un piano di pianificazione del territorio necessariamente ha un percorso molto lungo esattamente come quello del piano regionale di sviluppo, esattamente come il piano dei rifiuti. Si fa le cose all'incontrario in Toscana, prima si è intervenuti mesi fa con una legge molto dura nei confronti dei comuni perché di fatto si è scaricato sui comuni stessi l'obbligo dell'accatastamento degli impianti e in particolar modo i controlli, prevedendo anche il diritto di rivalza, ovvero sia il diritto della regione di scaricare sui comuni stessi i costi dell'eventuale condanna che il governo italiano dovesse scaricare a sua volta sulla regione toscana per la situazione e di Firenze l'inquinamento in modo particolare dovuto come da centralina di Viale Gramsci all'inquinamento dai veicoli oppure la piana Lucca-Pisa-Valdarno per quanto riguarda soprattutto l'inquinamento derivante dalle biomasse. In entrambi i casi i bandi fatti in questi anni da parte della regione toscana non hanno sortito effetti e sono mancati gli investimenti sulle infrastrutture per ridurre l'inquinamento. Con 24 voti a favore e 9 contrari, l'Aula di Palazzo del Pegaso ha approvato l'atto del Partito Democratico, primo firmatario Vincenzo Ceccarelli, che impegna l'esecutivo regionale a prevedere anche in considerazione dei dati contenuti sia nell'informativa preliminare sia in recenti studi condotti da ARPAT la necessità di continuare a sostenere con interventi specifici le aree che in termini di qualità dell'aria presentano maggiori criticità. Con la comunicazione dell'assessore Monni oggi si dà avvio formale alla stesura del nuovo piano dell'aria che deve, come da raccomandazioni da più parte arrivate in Aula, superare le emergenze come quelle che abbiamo visto nella piana della Lucchesia o di Pistoia, legate per esempio ai caminetti, un piano dell'aria che deve tenere al centro del proprio pensiero, del proprio obiettivo, la salute dei cittadini. Non in termini emergenziali, ma di prevenzione, di tutela della salute, facendo anche un passaggio davvero culturale con i cittadini che devono comprendere che ogni piccola azione da parte nostra concorre a avere area più pulita e quindi la salute sarà sicuramente migliore. È evidente che nel piano dell'area deve essere contemplato anche tutto quello che parla di distretti industriali, di grandi insediamenti industriali che devono in qualche modo attivare tutte le azioni che nel piano della qualità dell'area saranno previste. Insomma, passare da un chiudere la stalla dopo che poi sono scappati a davvero attivare un percorso culturale con l'amministrazione, con i cittadini perché in questa regione non si incorra più nelle infrazioni ma si curi la qualità dell'area per il rispetto di chi abita in questa meravigliosa Toscana. Lo dobbiamo alla Toscana, alla bellezza, al territorio, lo dobbiamo ai nostri cittadini. L'informativa che è stata presentata oggi potrebbe essere la replica di quella che ci è stata fatta 5 anni fa. I passi avanti sono stati pochi, timidi e probabilmente legati più che altro al cambiamento di abitudini che hanno avuto le persone durante il periodo Covid. Quindi o le risorse non sono state ben impiegate o le azioni che sono state messe in campo non erano giuste o non erano a sufficienza. In ogni caso c'è una grande responsabilità di questa regione se ancora oggi nell'agglomerato fiorentino e nella piana del Pistoiese si assiste a degli sforamenti continui che mettono l'Italia e nello specifico in questo caso la Toscana in procedura di infrazione. Negli atti che abbiamo presentato abbiamo chiesto innanzitutto maggiore attenzione su tutti gli aspetti del monitoraggio e sul maggiore finanziamento di tutte le risorse che sono adatte per ridurre queste emissioni. E quindi maggiore trasporto pubblico, maggiore intermodalità e questo ha molto a che vedere anche con il trasporto pubblico urbano soprattutto nell'area fiorentina. E soprattutto maggiori risorse per quanto riguarda le emissioni che vengono dal riscaldamento maggiori investimenti sulla riqualificazione energetica degli edifici pubblici. Il Movimento 5 Stelle con il super bonus che è stato criticato in tutti i modi possibili ma è stato uno dei più efficaci strumenti con cui siamo riusciti ad aiutare i privati e anche il settore pubblico nella riqualificazione che ci chiede l'Europa. È stato affossato da questo governo e neanche ben voluto da quello precedente, soprattutto dal PD. Diciamo che l'assessore ci ha dato qualche informativa ulteriore rispetto ai documenti che avevamo. Io ho fatto una breve cronologia dove l'Italia era stata sanzionata nel 2014 e nel 2015. La Regione Toscana ha istituito una commissione, un coordinamento fatto da tantissime persone che potevano in qualche modo darci delle informazioni e salvaguardare determinate situazioni negative. In realtà, questo nel 2017, nel 2020 e nel 2022 arrivano altre due sanzioni della Corte Europea di Giustizia. Una per la Piana Lucchese e una per la zona Prato-Pistoia per quel che riguarda il PM10 e per quanto riguarda il biossido d'azoto per quel che riguarda l'agglomerato di Firenze. Ora, io mi domando che nelle nostre note il quadro sanitario è una lettera di intenti e basta, cioè c'è scritto ben poco. Per cui, al di là di quello che dice l'assessore, che sembra vogliano fare qualcosa, in realtà per ora quello che è scritto è veramente solo una lettera di intenti. Quindi noi come Lega saremo attenti e vigileremo perché queste belle lettere di intenti si traducono in fatti concreti perché ad oggi siamo sotto infrazione. Questa era la nostra ultima intervista. Non mi resta dunque che ringraziarvi per la cortese attenzione e ricordarvi che l'appuntamento con cronache e commenti si rinnova la prossima settimana. Grazie a tutti.